Una saccatura atlantica guida un fronte mediterraneo sulla nostra regione. Questo passerà quindi nel pomeriggio di sabato. Anche domenica, in parte lunedì, avremo correnti occidentali in quota a tratti umide. Sabato prevediamo cielo in genere coperto su tutta la regione, con precipitazioni diffuse, abbondanti in pianura, più intense sulle prealpie e in Carnia, meno sul Tarvisiano. Sulla costa, precipitazioni più moderate e intermittenti e vento di scirocco anche forte, peraltro vento forte anche in quota da sud ovest. La quota neve sarà intorno a 1200-1400 metri circa in montagna, con valori un po' più bassi, intorno ai 1000 metri verso il confine Colcadore e valori più alti invece fino anche a 1500-1600 metri nel pomeriggio sulle prealpi e sul Tarvisiano. Domenica avremo ancora cielo in genere nuvoloso sulla regione, ancora precipitazioni sparse, un po' più continue e abbondanti sulle prealpi, più sporadiche, intermittenti e deboli sul Tarvisiano e sulla costa. Quota neve 800-1000 metri circa. Il vento sarà in atenuazione ma soffierà ancora vento da sud moderato sulla costa. Temperature in diminuzione tra 5 e 12 gradi in pianura, tra 8 e 13 sulla costa. Anche lunedì mattina avremo qualche precipitazione residua, poi miglioramento nel corso del pomeriggio con temperature ancora stazionarie. Dallo Sorvetario Metodo dell'Arpa, Arturo Pucillo vi saluta.